E' arrivata fin qui, ecco il corteo Acqueo, ecco i primi alzaremi dalla parte del Ponte delle Guglie, corteo Acqueo, voceo Acqueo, da senso a Sissi, direttore artistico Davide Ecco che passano le più linee multicolori Splendido il corteo Acqueo Acqueo, ecco i primi alzaremi dalla parte del Ponte E' arrivata fin qui, ecco i primi alzaremi dalla parte del Ponte Noi d'accordo appunto su indicazione dell'amministrazione comunale abbiamo ritenuto di fare di questa festa l'apertura del cannevale E credo che abbiamo fatto bene Ma la parola oggi spetta ai venefiani e ai loro rappresentanti che sono qui, massimi rappresentanti della città Grazie mille Piano, e tu dove sei? Eccolo qui, Roberto, Roberto Il provare a fare questo Il spolo della pandemia E ecco, ho già detto di una nota non lieta purtroppo della giornata e di un amico so che a Rialto avete fatto Ma comunque un ringraziamento, e qui lo faccio, perché non solo è doveroso, ma lo faccio proprio di grado Grazie a tutti Grazie a tutti.